Gravi e consistenti i disagi provocati dall'anomola ondata di maltempo sul territorio di Corigliano Rossano. 90 mm di pioggia battente che hanno provocato allagamenti, smottamenti e seri movimenti franosi. I corsi d'acqua sono al collasso, con il torrente malfrancato che ha raggiunto gli argini. Sul lungomare Sant'Angelo a Rossano l'acqua ha sfiorato i 20 cm e i contopassaggi, come accade periodicamente, sono stati chiusi alla circolazione in via precauzionale. Particolarmente critica la situazione nella frazione di Schiavonea, totalmente invasa dall'acqua, dove i vigili del fuoco hanno provveduto al soccorso di invalidi e anziani, impossibilitati a lasciare le proprie abitazioni. A Rossano è crollata parte di una galleria sita sulla ex strada provinciale 188, la stessa arteria già interessata da chiusura a causa del crollo di un altro tunnel in occasione dell'alluvione del 12 agosto 2015.